Musica Benvenuti, benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport due partite ancora per concludere questo 2023 con il Cosenza e poi si chiuderà il 26 di dicembre a Genova contro la Sampdoria continueremo però a commentare anche quelle che sono state poi le parole del presidente del Bari Luigi De Laurenti oggi è una giornata anche importante perché la Corte di Giustizia europea di fatto ha legittimato la Super League e poi cercheremo di capire anche nei prossimi giorni in quale direzione andrà il calcio Ne parliamo questo pomeriggio con il giornalista Massimo Longo del Corriere Nazionale Ciao Massimo, benvenuto, buon pomeriggio Ciao Cristian, grazie per l'invito, buon pomeriggio a tutti E con Nicola Sette, uno degli amministratori del gruppo Facebook Salotto Biancorosso Ciao Cristian, ciao e un saluto ai nostri tifosi delusi e amareggiati fino ad oggi Delusi e amareggiati con la speranza di concludere bene quest'anno perché bisogna assolutamente far punti Prima di parlare del Bari però Massimo approfitto anche della tua presenza Tu anche che sei legato poi a un calcio più romantico per chiederti un commento a quanto sta accadendo in queste ore perché la Corte di Giustizia europea si è espressa e ha sostanzialmente detto non si possono imporre sanzioni ai club che partecipano a competizioni alternative In sostanza la Super League è legittima, quindi si sta già cercando come comporla Si parla addirittura di tre livelli, Star, Gold e Blue League Nelle prime due categorie ci sono 16 squadre, nella terza altre 32 Con il CEO della Super Lega che ha detto monopolio UEFA finito, il calcio è libero Si è espresso anche Gravina che ha detto chi dovesse aderire alla Super Lega è fuori da tutto quindi per quanto riguarda poi i campionati nazionali Una vera confusione, chiaramente capiremo davvero in che direzione si andrà però è una prima svolta per quanto riguarda il mondo del calcio Beh insomma che dire Non voglio dire che è la fine del calcio ma quasi Un primo sentore lo avemmo tanti anni fa quando entrarono le tv a pagamento Già là capimmo che la strada intrapresa era quello dell'addio al calcio romantico Poi c'è stata la sentenza Bosman, poi ci sono accadute tante altre cose La check e tante altre cose Fino a questa scelta a mio modesto avviso scelerata Perché così facendo ovviamente andranno avanti le squadre ricche a dispetto delle squadre brave Perché per cui quelle brave non avranno alcun futuro Quelle ricche invece avranno la strada spianata e vita natural durante In tutto ciò però si potrebbe aprire una finestra a favore del Bari Perché chiaramente se il Napoli dovesse come sicuramente giocherà in questa Superlega Automaticamente un posto in Serie A si libererebbe Il problema di probabilità cade perché le due società partecipano a categorie diverse E quindi automaticamente De Laurentiis potrebbero, usiamo l'incondizionale, trovarsi col Bari in Serie A In realtà Aurelio De Laurentiis all'origine poi di questa Superlega La definì una stupidata Un calcio solo per pochi eletti e non era molto d'accordo Così come poi non è d'accordo anche sulla composizione di come è strutturata la Champions League Quindi andava più in quella direzione Piuttosto che cambiare completamente competizione, uscire dalla UEFA Però poi chiaramente è tutto poi in divenire Ora è anche difficile commentare certe notizie perché bisogna capire poi davvero Tecnicamente Si, su come si andrà strutturata la cosa Le squadre che poi davvero vorranno far parte Però è chiaro che è il rischio poi di impoverire i campionati nazionali Ovviamente sì Perché chiaramente se poi dovesse andare per esempio il Bari Il Bari si troverebbe a giocare come disse Aurelio De Laurentiis Che è il Frosinone che ci sta a fare in Serie A E poi il Frosinone va a vincere a Napoli 4-0 Quindi c'è questo rischio Però teniamoci pronti perché abbiamo visto di tutto in questo calcio Ormai il calcio di Gigi Riva, il mio calcio è finito da te Non esiste più Nicola, da tifoso invece questa primissima notizia Non mi piace, non mi piace Il calcio sta morendo Questa è un'altra botta che sicuramente si farà sentire Io ci tengo a specificare una cosa Hai detto bene da tifoso Noi siamo qui ospiti come gruppo del Salotto Bianco Rosso Come amministratori Come tifosi del Bari Cioè non vogliamo sostituirci nella maniera più assoluta I giornalisti o agli amici opinionisti Quindi diamo la nostra In questo caso la mia voce È giusto separare le cose Non vorremmo essere scambiati per altri Niente, questo discorso della Superlega e quant'altro Sicuramente favorirà i De Laurentiis De Laurentiis che purtroppo noi lo abbiamo Come multiproprietà Bari e Napoli Non potrà andare avanti all'infinita esastoria Perché ci penalizza parecchio Quindi a dire proprio per eccesso Devo dire quasi quasi ben venga Se deve rimanere De Laurentiis Quando almeno si levano al posto E staremmo più considerati in questo senso Chiaramente stiamo andando molto oltre Però poi capiremo nei prossimi giorni Cosa accadrà Intanto parliamo del nostro Bari Perché c'è stata questa chiacchierata A telecamere spente con il presidente Luigi De Laurentiis Massimo eri presente anche tu E a questo punto ti chiedo anche Che sensazioni ha avuto poi il rispetto Anche a quelle che sono state le parole del presidente La volontà di investire anche nel mercato di gennaio Per rinforzare la squadra Con prospettive future Legate magari anche all'inserimento di soci Che accompagnano in qualche modo La gestione del club Dunque, allora Premettiamo che la chiacchierata È cominciata prima del prosecco Tanto per cominciare Una cosa fondamentale Quindi, allora La chiacchierata è andata bene Perché il presidente Ho visto un presidente Volitivo, caparbio Quasi, come dire Avesse la volontà di provarci Perché ha insistito più volte Col discorso che l'obiettivo è quello dei playoff A discapito di quanto si vede Di quanto si percepisce in giro E quindi c'è questa volontà di aggredire di nuovo Aggiungo il mercato Solo che, insomma, se dovesse aggredirlo Così come l'ha aggredito a luglio Insomma, non è che stiamo Non è che la strada sia quella giusta Io, personalmente, gli ho posto anche una domanda Perché, insomma, gli abbiamo posto un po' tutti Gli ho chiesto Se la società e lei in persona Fosse consapevole che al mercato di gennaio In genere I buoni se li tengono cari nelle squadre È difficile fare un certo tipo di mercato Lei, Sibilli, lo venderebbe? Perché Sibilli, insomma Diciamocelo chiaramente Quello più in forma Lui ha detto No, assolutamente Ecco Per cui per la proprietà transitiva Gli ho detto Sarà difficile che le squadre si privino Dei giocatori forti Quindi come Come intende Ovviare a queste? Lui mi ha risposto Aggrediremo il mercato Io ho fatto questa domanda Insomma, più di questo non potevo fare Un impegno comunque se l'è preso Perché poi a questo bisognerà Vederlo ai fatti Vederlo ai fatti Con un mercato importante Sin da subito Perché si apre il 2 di gennaio Però già nella prima settimana Mi aspetto almeno Un paio di colpi L'attaccante, il play Poi si andrà a completare la rosa Su altri ruoli Però mi aspetto sin da subito Interventi importanti Nicola Il tuo parere anche su quelle che sono state Le dichiarazioni del Presidente Quella parola me la sarei risparmiata Non ti piace aggredire? Non mi piace aggredire Assolutamente No, anche perché Mi piaceva a luglio Ma adesso non mi piace più Perché Quella aggredire là Non è stata un aggredire Abbiamo visto Ecco perché Deve farlo ora È il segnale che poi si aspetta La piazza Avrebbe fatto meglio A dire ripareremo A quello che non è stato fatto a luglio No Sarebbe stata la cosa più Beh, che comunque Ammesso quelli che sono dati Gli errori di valutazione Nella costruzione della rosa Perché purtroppo Le scelte tecniche Non hanno pagato Però voglio dire Aggrediamo Vabbè, aggrediamo il mercato Però cerchiamo di Toglierci un po' Di scarto Che abbiamo oggi Sulle spalle No Perché ci sono 7-8 giocatori Che devono andare via Nella maniera Non possono stare qui a Bari Io faccio un nome su tutti Ho visto giocare Nella Venezia A Raumu Era bello Vederlo Ma è che Questo Venne a Bari A far che Ho fatto soltanto L'esempio di Raumu Ma Ne potrei fare Degli altri Ecco perché Dico Aggrediamo il mercato Va bene Però cerchiamo Di tolci un po' Di zavoro E di dos Perché ne abbiamo pareti Ci sarà tanto da fare 7-8 operazioni in entrata Altrettanto in uscita C'è tanto da fare Poi mi ricollego A quello che dicevi tu Mancanza In alcuni calciatori Li vediamo in campo Mancanza di senso Di appartenenza Perché è quello che Emerge Vedendo anche le partite Del Bari Assolutamente sì Io Quando vedo le partite Sia dalla tribuna stampa Sia in trasferta Che in tv Mi accorgo Di una squadra Come dire Priva di anima Senza Senza anima Svogliata Quasi Non gli importasse nulla Del risultato Prima facevamo un esempio Quando io 40 anni fa Giocavo a calcetto Mi arrabbiavo moltissimo Quando un pallone Non entrava in rete Anche dopo una sconfitta Anche litigavo Con il mio amico Avversario Litigavo Alle mani Non sono mai venuto Però litigavo Io a calcetto 40 anni fa Io non ho mai visto Litigare nessuno Non ho mai visto Arrabbiarsi nessuno Questa è l'impressione Che da A me dispiace dirlo Corran Populo Ma l'impressione è quella Che si diano una mossa Tutti Sì che non si sia Non abbiano capito Non abbiano capito L'importanza Della piazza Della piazza Della piazza 50 di B Insomma di Amine Proprio per questo A gennaio Sembra necessario Cambiare qualcosa Per salvare questa stagione Anche se Oppure dire Cristiano Come tu sai La storia Sia la storia Sia la storia calcistica Che insegna Che le rivoluzioni Non hanno mai portato Nulla di buono Robespierre Maria Antonietta Che Guevara Masaniello Fecero una brutta fine Con le loro rivoluzioni Però Non si sa mai In qualche modo Riparare gli errori A giocatori che non stanno rendendo E poi purtroppo Anche alla scortuna Con gli infortuni Perché purtroppo Abbiamo perso I giocatori I giocatori importanti Per questo bisogna essere Forti nel mercato Ci vuole Secondo me Ci vuole anche Un po' di soldi Ci vogliono anche No ma sicuro Altrimenti I giocatori forti Non li porti a casa Il giocatore fuori rosa Che non gioca da tre mesi Lo devi rimettere in piedi Passa altro tempo Non siamo giocatori Pronto Che costa Nicola In questo momento La rivoluzione Va fatta Perché vedere questi qua E Come fai a giocare con questo La rivoluzione In questo momento Sarà una parola strana Ma va comunque fatta Non è possibile Andare avanti In questa maniera Di Cesaro Non sta insegnando Con tutto il suo Buona La buona volontà Lui ci sta provando Perché poi L'esempio Il capitano lo dà L'esempio Il capitano lo dà È vero che abbiamo Ancora il dramma Loro Cioè Noi Con loro Ma i vecchi Non i nuovi Che sono Sto arrivando Abbiamo il dramma Dell'11 giugno Però un dramma Mi sa che lo hanno subito Quelli che sono arrivati È caso strano Invece questi Di rivoltare Di dare una mano Questi si stanno Stanno dormendo In più abbiamo avuto La sfortuna Anche Questi due Tre nominativi Che pensavamo Potevano essere buoni Per la causa Sto parlando di Menez Eh sì Si è fatto male Magliello A Campor Che lo avevano Tanto decantato Sono giocatori Che su cui Il direttore sportivo Ha puntato Per meno Questi qua Importanti Tra virgolette Per la categoria Purtroppo Poi è il campo Che parla In questo momento Stanno deludendo Ci sta andando Tutto male Diciamo Ci sta andando Tutto male Anche il VAR Ti ricordi L'anno scorso Gli episodi L'anno scorso Andavano a nostro favore Quest'anno Il VAR È tutto a sfavore In più Ci sono gli infortuni Ce le andavamo a meritare Gli episodi Anche favorevoli Quest'anno Purtroppo Tutto gira al contrario Dobbiamo andare in posto A pubblicitare A tra poco Ti appassionano La tecnologia L'innovazione La meccatronica Hai un diploma? L'ITS Cuccovillo Modello nazionale Nella formazione post diploma Con oltre 70 aziende partner Ti aspetta Nei corsi a Bari Brindisi Lecce Taranto Altamura E Andrea Con i nuovi corsi Interamente finanziati Potrai specializzarti Nei settori Automotive Biomedicale Automazione Ferroviario Siderurgico Dell'industria 4.0 Del sistema idrico E del sistema casa ITS Meccatronica Puglia .it ITS Cuccovillo Il futuro ora Audacia Azione Avventura Suzuki 4x4 Fuori dai luoghi comuni Car Service Bari Concessionaria ufficiale Suzuki Per Bari e Bat Viale Iapigia 243 Bari Suzuki Car Service Bari Nel cuore di Bari Scopri la Christmas Selection City Moda Acquista i tuoi regali Con sconti fino al 30% Su tutte le collezioni Autunno-Inverno 2023-2024 Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia Oppure su Facebook Questa è una storia che conosci già È una storia di valori Una storia di qualità Una storia di vicinanza Una storia di convenienza Una storia di amicizia Una storia che diventa ogni giorno più forte che mai Prodotti a marchio Sigma Nella tua storia da sempre Nella tua spesa da sempre Sigma Supermercati augura a tutti buone feste Con il freddo arriva da Sport Club Un'offerta imperdibile Le nuove felpe Nike A soli 49 euro Inoltre Non perderti le nuove collezioni Jordan Puma New Balance Adidas NBA Ti aspettiamo da Sport Club Corso Cavour 116 a Bari Farmacia Cavallo Sempre al servizio del cittadino Aperti anche la domenica mattina Dalle 8.30 alle 13 Offre una vasta gamma di prodotti dermocosmetici Dei migliori brand come Miamo Filorga, Codaliro, Sposè e tanti altri Integratori alimentari per ogni esigenza Come Neymed, Enerzona, Enervit e Gymline Oltre ai farmaci da banco E molteplici servizi come Consegni a domicilio Tampone rapido, ECG, oltre cardiaco e pressorio Profilo lipidico Selli Farmacia Cavallo La tua farmacia di fiducia In Viale Papa Pio XII 48B a Bari Seconda parte del Bianco e Rosso TV Sport Sempre in studio con Massimo Longo Nicola Sette Tanti servizi da mostrarvi Allora partiamo con delle parole Del capitano del Bari Valerio Di Cesare In occasione poi della festa di Natale Della SSC Bari A Masseria Pietrasole L'ho intervistato per noi Marica Alpassore Sentiamo il capitano Ancora non siamo pronti Con le parole di Capitano Di Cesare Capitolo mercato però Cosa vi aspettate in termini di ruoli? Prima abbiamo parlato Della necessità di una punta Di un play Serve tanto altro Allora Precisa una cosa Quando ho detto che la squadra Non ha un'anima Non mi riferivo a tutta la rosa No, no, certo Ovviamente ad alcuni calciatori Che non stanno rendendo Per quello che ci si aspettava Prima cosa Seconda cosa Non si può essere di Cesare dipendenti Cioè di Cesare non può fare gol Non possiamo sperare Che faccia lui gol sempre Il mercato Io mi aspetto sicuramente Due attaccanti Due, non uno, due Mi aspetto Anch'io Ecco Un centrale difensivo Visto che Dispiace dirlo Ma a me piace Parlare del momento Le considerazioni Le facciamo fuori al bar Ma il momento Dice che Matino Non è considerato Mai Né da Mignani Né da Marino Ergo Occorre Un centrale difensivo Altrimenti si darebbe fiducia a Matino E poi servono almeno due centrocampisti Di cui uno vice Maiello E un altro come Mezzala Questa è la base Poi se parliamo dell'altezza Dividiamo il prodotto D'accordo con te Aggiungerei anche un esterno offensivo Se poi si vuole giocare Con Con il 4-3-3 Certo Però Come Si può vincere Manca Manca tanto Nicola Mancano effettivamente Innanzitutto Due centrocampisti Ma due centrocampisti Con Gli attributi giusti Di esterni Ne abbiamo parecchi Ne abbiamo molti Però Dobbiamo sfoltire gli esterni Per cercare di Di mettere dentro Qualcuno Che sia Che sia per il Bari E sono d'accordo Anche sulle due punte La rivoluzione Ci deve comunque Ma è come questa volta Serve la rivoluzione Sono d'accordo con voi Sui ruoli Da 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 coprire Specialmente il centrale Difensivo Viste che i due Non vengono Manco Calcolati Sia dall'uno Che dall'altro Lo abbiamo recuperato Sì Massimo Quando parlo di punte Intendo centravanti Centravanti Infatti Non Puskas In questo momento Abbiamo Nasti Ci ha informato Dio Ne mancano due Voi proprio Centravanti Quello che deve rimanere in area A raccogliere i cross Con caratteristiche ben precise Non le punte Diverse Sentiamo di Cesare E niente Tanti auguri a tutti i tifosi baresi Speriamo il prossimo anno Insieme Di poter festeggiare qualcosa Di unico Anche se Si sarà molto difficile Ok Questo è l'augurio Per i tifosi baresi Ma Che cosa ti aspetti Sotto l'albero di Natale Qualcuno penserebbe Addirittura Una maglia numero nove Viste le tue Abilità Da attaccante Anche che Si sono viste In quest'ultima stagione Ma no Il mio augurio Sempre lo stesso Intanto terminare bene Queste Queste due partite Perché sono molto importanti Per noi E poi E poi niente Aspettare gennaio E speriamo di fare Sicuramente un altro campionato Perché questo Questo che stiamo facendo In questi quattro mesi Non mi soddisfa Assolutamente Chiaramente Non si nasconde il capitano Cioè bisogna fare Assolutamente un altro campionato Un altro campionato Deve essere Perché Continuare con questa marcia Vorrebbe dire Poi anche Rischiare di guardare Indietro Piuttosto che Di essere risucchiati È quello che dobbiamo Dobbiamo evitare Dobbiamo evitare Per cui Insomma Di Cesare ha detto Proferito parole sacrosante Nulla Nulla questio Però Insomma Come dire Occorrerebbero Undici di Cesare Undici di Cesare Una volta si diceva Ci volevano Undici Loseto Undici Loseto Il capitano Chi dà l'esempio Chi in campo Dà l'anima È vero Ne approfitto per salutare Anche il capitano Giovanni Giovanni Loseto Lo saluto anch'io E resta sempre Una bandiera del Bari Uno che ha fatto La storia Con questa Con questa maglia Perché ce l'ha Cucita addosso Nicola Si può ricucire Secondo te Questo rapporto Con Con il presidente Laurentiis Con la famiglia De Laurentiis Con la società O vedi Una situazione Ormai compromessa Chiaro che poi Molto dipenderà Da quello che Si farà sul mercato Ma anche dai risultati Della squadra Perché poi Quelli allontanano Le critiche I malumori Per ricucire Devono arrivare I risultati Devono arrivare I fatti Quello che Io mi soffermo Sulla conferenza Stamba Che fece Della Laurentiis All'indomani Della promozione In Serie B Loro parlavano Del programma Triennale Che vorrebbe dire Il programma Triennale Vorrebbe dire L'anno prossimo L'anno prossimo Puntare in maniera Diretta Alla Serie B Se noi L'anno scorso Avevamo fatto Sto campionato Non c'era niente Da dire Il problema è stato Che abbiamo fatto Quel bel campionato E non ci si aspettava Di fare un passo In dietro Noi come gruppo Diciamo Ci pigliamo anche Le nostre responsabilità Abbiamo cercato Di supportare La società Fino alla sesta Settima partita Per vedere Vediamo un po' Questi nuovi Che sono arrivati Sono in condizione Di sostituire Quelli che sono andati via Che erano importantissimi Non è stato così Ed è normale Che scatta subito La contestazione Perché La società È stata assente Non sappiamo Con i calciatori Si è fatta sentire È stata nelle condizioni Di dettare delle leggi Non so che cosa È successo Sta di fatto Che al momento È difficile Purtroppo Ricucire questo strappo Perché è assurdo Non puoi Devi fare per forza Risultato Altrimenti Le cose Si aggraveranno In più c'è il discorso Della multiproprietà Se questi hanno Intenzione Di portarci Fino al 2028 Hanno sbagliato Ma non può essere Quella l'intenzione L'anno prossimo Deve essere Quello Quello focale Perché No no ma sicuro 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 non può essere Quella Altrimenti Non gioverebbe a nessuno Mantenere il Bari Sino al 2028 In queste condizioni Assolutamente Perché qui non ti porta soldi La Serie B Non ti porta nulla Questo ci porterà Anzi Non esiste Assolutamente Questo è un tema Che avete anche affrontato Poi in quella chiacchierata No Massimo Non vogliamo vedere Una squadra Che punti alla Serie A Ma deve essere così Che le contestazioni Ci saranno comunque A Bari devi puntare Alla Serie A Altrimenti Assolutamente Sì perché l'altro ieri Parlamo anche Accennammo Parlammo Affrontammo il problema Dell'accessione del Bari Il Bari Se Il Bari Oggi come oggi Con tutto quello Che lo circonda Stadio Baccino di utenza Blasone Eccetera Eccetera Se viene venduto Con i prestiti Non a mercato Ma se viene ceduto Con gli uomini Di proprietà Ha molto più mercato Da qui si spiegano I prolungamenti Di contratto Di quei 4-5 giocatori Per cui La volontà di vendere C'è Su questo Non ho il ben che Minimo dubbio Il problema è Deve Deve capitare Il momento più opportuno E in questo momento opportuno Oggi Evidentemente Non c'è Perché ci sono ancora Dei giocatori Troppi giocatori In prestito E la situazione Non è delle più rose Ma io sono convinto Che nel momento in cui Ci saranno più giocatori Contrattualizzati Il Bari Varrà di più E chiaramente Sarà molto più appetibile Perché ovviamente Si vende una squadra Con un fiore a rocchiello Non si vende una squadretta Qualsiasi Questo è quello che penso In più E chiudo Io credo che I De Laurentiis Da sempre Al di là delle critiche giuste Che vanno evidenziate E vanno dette E io sono il primo Che è l'esterna Io ho come l'impressione Che i De Laurentiis Così come molti gruppi Arrivati a Bari Non siano mai stati Ben visti Dal pubblico Baresi E' successo A Farinetti E' successo A Benetton E' successo Alla fila Ben visti Dalla pletora Della città Questa è l'impressione Però La verità La realtà Dice che I De Laurentiis A Napoli In 16 anni Dei 16 anni Di comando I 14 sono stati in Europa E hanno vinto uno scudetto A Bari In 5 anni Hanno vinto due campionati E hanno affrontato Due finali Certo Quest'anno E sta andando male E stiamo criticando tutti Io sono il primo a criticare Però diciamo Più che la multiproletà E' come poi la si gestisce E' come si gestisce Però c'è questo fatto Della sostenibilità E qua purtroppo Non si può fare nulla Perché la sostenibilità economica E' il loro cavallo di battaglia Anche a Napoli Cerca di coniugare Poi i risultati sportivi All'aspetto Di pari passo Vanno Sostenibilità Con gli obiettivi E a Napoli ci riescono A Bari In parte Ci sono riusciti In parte Quest'anno Sta andando male Se serve uno sforzo In più Per puntare al massimo Il traguardo A Napoli A Napoli Ci hanno messo del tempo Negli ultimi 16 anni Il Napoli Però a Napoli Ci hanno messo del tempo E non è che a Napoli Dalle Orenti Siano visti O ci sta una parte Che continua A criticare Sì Ma voglio dire I primi 16 anni Non è che Voglio dire Ad andarci non in Europa Magari Diciamo Vabbè Non è che in ultima Aspetta 16 anni Dobbiamo accorciare i tempi Dobbiamo accorciare i tempi Andiamo ancora in pausa pubblicitaria Tra poco Audacia Azione Avventura Suzuki 4x4 Fuori dai luoghi comuni Car Service Bari Concessionaria ufficiale Suzuki Per Bari e Bat Viale Iapigia 243 Bari Suzuki Car Service Bari Nel cuore di Bari Scopri la Christmas Selection City Moda Acquista i tuoi regali Con sconti fino al 30% Su tutte le collezioni Autunno-Inverno 2023-2024 Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia Oppure su Facebook Codes Società di ristrutturazioni edili Interni ed esterni Installazione e manutenzione Di impianti di condizionamento Riscaldamento Idrici e fognari Dalla progettazione Alla manifattura Codes SRL E a Modugno In via Brescia 4D Mail Codes SRL Punto infocchiacciolagmail.com Whatsapp 375-817-0098 Questa è una storia che conosci già È una storia di valori Una storia di qualità Una storia di vicinanza Una storia di convenienza Una storia di amicizia Una storia che diventa ogni giorno Più forte che mai Prodotti a marchio Sigma Nella tua storia da sempre Nella tua spesa da sempre Sigma Supermercati Augura a tutti buone feste VMB Viaggi Pacchetti vacanze a quote fisse e vantaggiose Vienici a trovare in una delle nostre agenzie Siamo a Bari In via Brigata Regina 72 Via Giuseppe Fanelli 221 Via Andrea Bari 69 In via Cerillo 2 bar B a Valenzano WMB Viaggi punto it Farmacia Cavallo Sempre al servizio del cittadino Aperti anche la domenica mattina Dalle 8.30 alle 13 Vasta gamma di prodotti dermocosmetici Integratori alimentari Farmaci da banco Molteplici servizi Farmacia Cavallo In viale Papa Pio 12esimo 48B a Bari Siamo venuti insieme con Massimo Longo e Nicola Sette Però dobbiamo correre Abbiamo dei servizi da mostrarvi Partiamo anche da quello realizzato da Roberta Maffei La nostra tifosa in trasferta Che ha sentito anche tifosi biancorossi Lì al picco di La Spezia Anche per raccontare poi lì Storie dei tifosi che seguono il Bari Non al San Nicola Ma appunto in trasferta La vediamo Ci vuoi spiegare un po' Quello che è stato il tuo viaggio per arrivare fino a qui? Abbiamo preso l'aereo da Bari Poi siamo arrivati a Pisa Da Pisa abbiamo preso la macchina a noleggio E con la macchina a noleggio Siamo venuti qui allo stadio Questo è carino come stadio Non è male Ecco proprio a proposito di stadi Immagino tu abbia fatto tante trasferte Qual è quella che ti ha lasciato qualcosa di più rispetto agli altri? Sicuramente quella Quando saremo in Serie B Che vinciamo a Catanzaro Fu una bella partita Da parte del Bari E poi c'era una bella atmosfera Volevamo vincere tutte e due Ma il Bari Giocava molto bene Ci ha detto una bella soddisfazione Puoi dire anche quello che ti spinge A venire fino a qui? La passione è proprio legata a vedere la squadra del Bari Perché così come in casa Si è sempre lo stadio Cerchiamo anche Diciamo fuori casa Quando è possibile Quando i mezzi del lavoro lo consente Di venire anche a seguire la squadra Voi fate parte di quei tifosi Che seguono il Bari Lontano da Bari Come vivi la tua passione Lontano dal San Nicola? Per me è particolare Perché io Non sono neanche nato a Bari Sono nato a Parma Quindi mi è stata trasmessa Da mio padre La passione Quindi per me è diverso Io Ogni partita Ogni trasferta Per me è unica Perché Chi è abituato ad andare a San Nicola Ogni settimana È È una fortuna Ma forse non se ne rende neanche conto Invece per me È tutta un'altra cosa E quando vado giù al San Nicola Per me Io voglio andare due ore prima Tre ore prima Perché mi voglio godere ogni secondo E allora Quante belle storie No? Massimo Quindi questo ragazzo Che è nato a Parma Ma col sangue barese Deve far riflettere La famiglia dell'Aurentis Deve far riflettere tutti Tutta la società Perché una città Un blasone come questo Un bacino di utenza come questo Non può rimanere ai margini Non può essere dodicesima in classifica Con una prospettiva Insomma Non delle migliori Ripeto Come prospettiva Poi speriamo di essere smentiti Dai fatti Cioè Uno che abita a Parma E tifa a Bari Invece che il Parma Ovviamente Tifare Parma Non è la fine del mondo Soprattutto Col Parma degli ultimi 40 anni Deve far riflettere molto La famiglia dell'Aurentis Si è stato chiaro Nicola Volevi dire qualcosa? Ma certamente Bari deve Quando In qualsiasi campionato Deve Nella Serie A Voglio dire che ci sono i Colossi Ma in qualsiasi campionato Oltre alla Serie A Deve stare sempre ai vertici Non può stare lì In quei meanti Non contare niente Anche perché Dispiace Questi ragazzi Che vanno in trasferta Gente che sta là Fanno migliaia e migliaia Di chilometri Sempre per amare Lo sono straordinario Con la mano in bocca E con qualcosa di assurdo Io volevo dire qualcosa Per quanto riguarda il gruppo Siccome ci sta qualcuno Che ogni tanto Tira fuori il discorso Che noi mettiamo fuori Della gente Se non la pensano Come noi Io voglio dire A questa gente State tranquilli State sereni Noi mettiamo fuori Soltanto chi ha Un linguaggio sporco Perché non Le regole del gruppo Sono ben delineate Basta andare a vedere Non esiste Un conto è dire Che so Della Aurendi sbattene Un altro è dire Della Aurendi Non possono stare Quei soggetti In un gruppo O più di noi Diferenti vanno bene Però un conto è la critica Un conto è l'insulto L'offesa Non ci sta assolutamente E questa è la gente Che noi mettiamo fuori E che ne dicono loro È un mondo particolare È un mondo particolare Poi i social Sono crementi Vale tutto lì Ma torno a ripetere C'è questa Questa volontà Questa volontà Nel non accettare La famiglia dell'Orentis Per cui a ogni La sciarpa Del Napoli Le uova di Pasqua Le uova di Pasqua Odio C'è questo accanimento Ingiustificato Io non l'ho visto Neanche negli anni peggiori Di Matarrese Francamente Questo accanimento Né ingiustificato Ripeto La critica Io sono il primo E lo dimostro con i fatti Non solo da te Ma anche con i miei articoli Assolutamente sì Però l'accanimento No Io non l'ho visto Neanche con l'Ipatin Quando venne Quando Matarrese Comprava l'Ipatin Non ho mai visto L'accanimento Posso dire una cosa Fino a che Avevamo le spalle coperci Cioè io dico Matarrese vattene Fino a che so Che dietro C'è una persona O c'è un gruppo C'è un qualcuno Che possa prendere Il posto di questi signori qua Cioè non vorrei trovarmi Nella condizione Che via Matarrese Ci troviamo in vuoto Sprofondiamo Questo mi fa paura Ecco perché Dico io Stiamo attenzione Che poi vanno comunque Bastonati Per quello che stanno facendo Questo è fuori dubbio Siete stati Siete stati chiari Abbiamo ancora un mini Sondaggino L'ha realizzato per noi Matteo Cantatore Tra le vie di Bari Anche sul momento del Bari E sulle prospettive Di calciomercato Vediamo Che pensa lì Della situazione attuale L'attuale del Bari Sì Come la storia insegna Siamo così disabituati A vedere il Bari Nelle alte sfere Che materialmente Siamo rassegnati Apparteniamo alle dieci città Più importanti d'Italia Però a livello calcistico Apparteniamo ad altro genere Di classifico Diciamo che la situazione È un po' critica Perché la società Ha dato a dimostrare poco Anche se Gli acquisti che Hanno detto che Dovevano rivoluzionare la squadra Comunque non ci sono stati È un po' di delusione Diciamo un po' troppa Delusione c'è Che a parte Sibilli Di Cesare E Brennan Ancora ancora Non si salva nessuno Il primo sarebbe Sibilli Poi Perrei Nasti Cosa punteresti a prendere Sul mercato di gennaio? A gennaio senz'altro Una punta Perché Praticamente È quello che ci viene a mancare È un buon centrocampista Delle punte È un play E allora Punta e play Quello che dicevamo prima Le priorità Almeno i primi che devono arrivare A gennaio Poi bisognerà completarla Però con altri Con altri acquisti Io vi ricordo 19.30 Pagina social Radio Bari Una nuova puntata Da tutto campo Jessica Ramos Con Mattia Ramo Uno di quei calciatori Che stiamo ancora Aspettando E che non riesce Ad incidere Siamo praticamente In chiusura Però un minuto a testa Massimo Nicola Per un pensiero In libertà Ricordiamoci che poi Bisogna concludere bene Questo 2023 Perché c'è Barico Senza Sabato E poi si chiude Con la Sampdoria Dunque Un minuto Polito A luglio Secondo me Non ha sbagliato Perché io A Ramo E a Campora Li prenderei sempre Il problema Che però Non hanno reso Il campo ha detto altro Per cui Faccio questa premessa Sia la critica Dura Feroce Ma no All'accanimento Io l'accanimento Non lo accetto Per cui Chi si accanisce Contro De Laurentiis Per quanto mi riguarda Non merita risposta Io ho visto Una cosa assurda Mai vista In 60 anni Da quando Segui il Bari Che il giorno 12 agosto In occasione Di una sconfitta In casa Per giunta In Coppa Italia Per giunta Col Parma Primo in classifica E' uscito Uno striscione De Laurentiis Tempo scaduto Cioè Non è possibile Allora io De Laurentiis Tempo scaduto Lo metto Il 20 aprile Anche se credo fosse Uno striscione Sì Non Di strettissima attualità Non lo metto Di 12 agosto Lo metto Lo espongo Semmai Il 20 aprile Quando Non se ne può più Da qui La mia idea La mia ipotesi Che c'è un accanimento Contro la famiglia Ingiustificato Nicola Non a caso Ho detto 6-7 partite Si dovevano dare Supportare la squadra Non partire Già Da quella data A contestare Io ho letto pure Ma non a caso Va sottolineato poi Anche La maturità Dei gruppi organizzati Di come poi Stanno portando avanti Anche questa stagione Bravissimi Anche nel Supportare la squadra E fischiarla Quando va fischiata E contestare alla società Quando poi delle scelte Non piacciono Hai fatto bene Ricordarlo Cristian Sono stati bravissimi E continuano ad essere Ancora Maturi Sono maturi Ma veramente Mi stanno Piacendo assai Quello che voglio augurarmi Fateci passare Un buon fine anno Porca miseria Date una regola Aramu Cerca di essere Aramu Che stava a Venezia Da sempre I tifosi del Bari Sono maturi Ma in questo frangente Stanno dimostrando Di essere Ancora di più Superiori Poi diceva bene Nicola Dobbiamo passare Un bel Natale Quindi battere il Cosenza E poi sperando Anche un buon fine anno Facendo risultato Avete già fatto rovinare Una festa Non riapriamo ferite Io ringrazio Massimo Longo Giornalista del Corriere Nazionale Grazie a te per l'invito E grazie a tutti Nicola Sette Del gruppo Facebook Saluto Biancorosso Un saluto a tutti i tifosi Un saluto a tutti i tifosi Un saluto a tutti i tifosi biancorossi 19.30 A tutto campo Con Jessica Ramos E Aramu Nell'ultima parte Invece Lo speciale Sul settore giovanile Curato dal nostro Michele Carofiglio Pubblicità Elettrica Armenise E impiantistica elettrica Da quasi 20 anni E realizza impianti Per case private Condomini E attività commerciali Utilizziamo esclusivamente Materiali certificati Di alta qualità Per garantire impianti Sicuri e affidabili Progetti eseguiti In conformità Alle norme europee Specialisti Nell'installazione Di antenne Per il digitale terrestre Parabole e Sky Impianti di sorveglianza A circuito chiuso E nell'automazione Dei cancelli Professionalità Prontezza E affidabilità Al vostro servizio Non sceglieteci a caso Avete i migliori motivi Per affidarci La vostra azienda O la vostra casa Elettrica Armenise Via Lucera 9 Modugno Bari O armeniseimpianti.it L'evoluzione Pagina Follow Bus Viaggia in tutta sicurezza Tra Puglia Basilicata E Campania Prenota subito Su baseniccolis.it Volkswagen ID4 Volkswagen ID4 Tua con noleggio Ideal A 589 euro IVA inclusa E anticipo zero Vieni a scoprirla Da Volkswagen Zen Trumbari Ah, dimenticavo Puoi restituirla Quando vuoi Molino Casillo Farina e semole Dal 1958 Si attende il fischio Del direttore di gara Che arriva proprio In questo momento Partiti E dunque il Bari Che manovra Il primo pallone Dell'incontro In difesa Ancora Akpacuku Che resiste All'attacco Del suo diretto avversario Ancora Bari In possesso di palla Siamo sull'out Di destra Riesce in qualche modo Il Bari a distendersi Attenzione Dalla destra Il cross al centro Non arriva Per un pelo Akpacuku Fischio dell'arbitro Parte il tiro Direttamente In porta In due tempi La fa sua Palmisano Ci aveva provato Loconte Campanelli Bel gioco di gambe Il suggerimento Dalla parte opposta Dove c'è il libero Lombardo Ancora Lombardo Prova ad avanzare Lombardo Il suggerimento Bello per Akpacuku Akpacuku Salta falocco Il pallone La sovrapposizione La sovrapposizione di Campanelli Attenzione Campanelli Che entra in area di rigore Prova questo tiro cross Pallone Che finisce sul fondo Da Achille Per Depinto Prova a salire Il terzino Sinistro Del Bari Depinto Ancora Salta il suo Diretto avversario Ancora Depinto Prova ad accentrarsi Adesso Ancora Depinto 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 Prova a tirare Addirittura Con il sinistro Pallone smorzato Qui da Biondini Però ci ha provato In progressione Qui Depinto Va Colangiuli Con il mancino Ad uscire Dall'area di rigore Il pallone per Da Achille Che prova il tiro Dalla distanza Pallone respinto In area di rigore Dalla Terrana Che adesso può ripartire Con il numero 9 Bustos Il pallone È sulla sinistra Dove c'è Fulga Ancora Fulga Rientra sul destro Il suggerimento Dalla parte opposta Per il numero 8 Pallone al centro Attenzione Qui lisciano in due Il pallone Però C'è stata ancora Una segnalazione Da parte Dell'assistente di gara In fuorigioco Ancora Biondini Subisce il pressing Di Akpacucu Ancora il pallone Per Akpacucu È buono È buono Il pallone Per il Bari Attenzione Akpacucu Deve passare Il pallone al centro Fa tutto da solo Akpacucu Ci prova con il mancino Pallone respinto Di testa Da un difensore Della Ternana Ma ancora Bari In possesso di palla Ancora Colangiuli Il sinistro Debole Centrale Tra le braccia Di Falocco Ancora Biondini Sulla destra C'è Fulga Pallone Per Monesi Ancora La Ternana Sulla destra Con Ciucci Prova il cross Il cross al centro Per Bustos Lascia la battuta Gatto Il pallone Al centro Ci prova di testa Bustos Il pallone È ancora lì In area di rigore Bustos Ci ha provato con il sinistro Pallone fuori Solo Depinto E Campanelli Destro a giro In area di rigore Lontana di testa Bustos In qualche modo La Ternana Prova a rilanciare In avanti Il pallone Possesso però Ancora del Bari Con D'Achille Ancora D'Achille Ci prova Con il mancino La traversa Di D'Achille Acquaciucu Tira alto Sulla traversa Ancora Una grandissima Occasione Per il Bari Questa ghiottissima C'è Trolese Attaccato Da Campanelli Trolese In qualche modo Resiste l'attacco Di due avversari Del Bari Recupera però Adesso il pallone Colangiuli Prova ad avanzare Colangiuli Ancora Colangiuli Attaccato da due avversari Colangiuli Gioco di cambe Ancora Colangiuli Ci prova Con il mancino Buono Il tentativo Da parte del numero 8 Biancoroso E intanto C'è stata anche qualche Scaramuccia In area di rigore Si può battere Questo calcio d'angolo Palla A rientrare Al centro Attenzione Il pallone Resta pericolosamente In area di rigore Del Bari Poi ci ha provato Con il sinistro Gatto Pallone fuori Va Colangiuli Per la Ternana Va all'ops Con il destro Pallone che non è uscito Di molto Calcio d'angolo Sulla destra Vai fuori Palla a rientrare In area di rigore Sul primo palo Allontana Un calciatore Della Ternana Attenzione Al tiro Tentato Da Natuzzi Non c'è più tempo Però Arriva anche Il triplice Fischio Del direttore Di gara Finisce dunque Così La partita Tra Bari E Ternana 0 a 0 Dopo il pareggio A reti inviolate Contro la Ternana Secondo impegno Casalingo consecutivo Per la primavera I ragazzi allenati Da mister Giampaolo Sabato mattina Alle 11 Ospiteranno La Salernitana Al Palmiotta Di Modugno Match valido Per la tredicesima giornata Del girone B Campionato Primavera 2 Pesantemente sconfitta 5 a 1 L'Under 17 Biancorossa A Palermo Nell'ultimo turno Che riprenderà Il proprio campionato Il 14 gennaio Contro il Frosinone Stesso discorso Per le under 16 E 15 Entrambe sconfitte Dai rispettivi Parietà della Roma Sorride invece L'Under 14 Che nell'ultimo Weekend Ha battuto Il Sorrento 6 a 0 Pioggia di gol Anche per le formazioni Femminili L'Under 17 A Valanga 9 a 0 Sulle Pink Sport Time E l'Under 15 8 a 0 Contro la Football Academy Andria Molino Casillo Farina e semole Dal 1958 Al E l'Under 17 Grazie a tutti.